No, non è venuto. Parte adesso il video. Lancio alto. Muovere le gambe, chi fa il bagger, le braccia distese. Il lancio un po' più alto, non troppo difficile, che sono le prime volte. Fermare le braccia, chi fa il bagger. Chi alza, le mani aperte, alte. Punto uno, fermi prima di palleggiare, prima di fare il bagger. Punto due, fermarsi con le mani alte, chi fa il palleggio.